mi calo la pasta metto un bel goccio d'olio nella mia padella olio d'oliva aggiungo la mia cipolla tritata aggiungo il mio tonno sgocciato in precedenza e lo vado a rompere leggermente con un cucchiaio metto il fuoco a minimo aggiungo il mio formaggio spalmabile il fuoco a minimo aggiungo il mio formaggio spalmabile il fuoco a minimo aggiungo il mio formaggio spalmabile e la nostra salsa è pronta ora non ci rimane che buttare la pasta dentro il fuoco a minimo aggiungo il mio formaggio spalmabile e la nostra salsa è pronta e la nostra salsa è pronta Grazie a tutti. Grazie a tutti.